Così bella da togliere il fiato. Eh no, non è la solita frase da rimorchio. Ma è ciò che succede se si ingeriscono più di 50 grammi di questa pianta. Sto parlando della famigerata cicuta, per la precisione conium maculatum. La pianta con cui venne condannato a morte il filosofo greco Socrate. A quei tempi era il veleno di stato di Atene, che provocava una paralisi lenta ma cosciente, facendoti restare lucido fino alla fine. Nei secoli passati era stata utilizzata anche nella medicina popolare come sedativo. Ma questa pratica è stata ben presto abbandonata, quanto la linea tra dose curativa e letale è davvero sottilissima. La sua arma? La conina. Un alcaloide neurotossico che blocca i nervi motori. La dose letale per un adulto è di 100 milligrammi di conina pura. E non esiste un antidoto. Sono riportati numerosi casi di intossicazione nella storia della medicina. in animali da pascolo, ma anche in adulti e bambini, che la scambiano per finocchio, carota o prezzemolo selvatico. Le differenze stanno proprio nel fusto maculato, clabro, cavo, che può raggiungere anche i due metri e mezzo o tre di altezza. Cresce in luoghi umidi, creando a volte fitte distese. Al contrario di quanto si pensa, inizialmente non ha un cattivo odore, ricorda il cerfoglio e il sesamo tostato. Solo dopo che viene spezzata, assume un odore simile a colla vinilica. Le foglie possono raggiungere dimensioni di 50 centimetri, sono alterne, verdi brillanti, tripennato 7, a fiori bianchi ad ombrella, con 8-20 raggi principali, fiorisce da maggio ad agosto. I frutti sono diacheni, ovvero che si separano in due quando sono secchi. Hanno dimensioni di 3-4 mm e maturano a fine estate. La massima concentrazione di conina si ha proprio nei frutti acerbi.